Bene ragazzi siamo i Granas e benvenuti su questo nuovo video con questo grandissimo ospite Gigi presentati prego Bene raga eccoci qui Come mi avete visto penso sul loro canale faccio non solo i commentari faccio la musica faccio il dj faccio le foto Sono molto contento di essere nel loro canale come ospite veramente sono davvero contento dai Con questo sarà un grandissimo video Andiamo a spiegare quello che succede praticamente noi abbiamo abbiamo un grandissimo giocatore che è Lionel Messi E abbiamo deciso di metterlo in palio Abbiamo deciso di buttarlo Una specie di pink slips no? Sì dove lui Dai io spero di vincere Se lui vince vince Messi E se non vince E se non vince niente Noi ci teniamo Messi Olè Ah ovviamente metà tempo lo giocherà lui e metà tempo lo giocherò io quindi Io giocherò totalmente come un cane Lui Vabbè ma c'ho Dunani in cosa però finna c'è è meglio che non cosa fa No Var Or Mamma mia Io c'ho qui un razzo umano Vargas che corre quanto un negro in calore Oddio Oddio Il tiro Mamma mia mamma mia quasi eh c'era quasi eh Sarà mio quello stronzo Vai vediamo subito Ginger l'attacco Diego Costa Di fisico la finta Oddio Ancora Diego Costa Mamma mia che botta Diego Costa Io avverto Diego Costa tira i razzi C'è proprio tira dei missi di terra aria che Eh si è visto si è visto Sono assurdi E poi se ci fate caso noi abbiamo la serie a più messi che non c'entra nulla Sì infatti Non fa niente Vabbè mettere un palio Va bene così Oddio Mamma mia Tanto fortuna c'è sta messi Ho ancora posto di la squadra intorno al Messi Oddio ma che cazzo Caglie con Però tira certi razzi scandalosi messi davvero Cioè O l'ho visto su un altro match È una cosa assurda Sì è un po' forte Tra l'altro questa è la prima partita su FIFA 14 Su un next gen che portiamo sul canale No non è vero Non è vero perché c'è quella a casa dei Frax È vero c'è quella a casa dei Frax Però questa è la prima a casa di Di Dico Vabbè Dico Costa adesso me ne so passate Non è un mostro però Regà non vi consiglio di passare la palla così Perché sai quante errori ci fate Eh ma io sono esperto Eh sì Apelle basso Ah lo sembro scusa Caglie on Caglie on Oh Ancora Ma dai Cioè il medio courtois qui Comunque che cosa Ma mettermo le mani Ho paura di perdere Messi Per prendere di Maria Ho paura di perderlo Ho paura di perdere Messi Oddio 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 Oh disco Gisco Oh grandissimo Chiellini De Rossi Vale per Lionel Mamma mia Ah Lionel Ti piacerebbe De Rossi Io nella stessa squadra Eh già La bacio è loro Vai ancora C'è Bialonzo Non so che cazzo fare Non mi si avvicina a nessuno Vaffanculo Mamma mia che apertura Oh degna da Totti questa Degna da Totti Ancora Messi Messi si vuole riscattare Messi Ma dai Ma che era? Vabbè ma tutti i reti destro È normale No guarda che Messi Non è destro C'ho tipo ansia Quando prende palla Messi Inizia su da freddo Isco ancora Isco Isco Meno male che non l'ha visto Sì Ah cazzo il difensore Vai 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 E non correre Messi Dai che ti ha importato Quando ripi Vai quando ripi Oh oh Perché non hai tirato te No Ancora me No Che culo Che culo Oddio Sto su da freddo Oh no Ti l'ho ucciso E fallo Dai fammi la tira No tiranio nello Dai ma dai lo sai che il tiro Tiranio nello Ma quale lì O nel fai tirare Amsic Dai fammi tirare Ma che cazzo Ma che sei stupido Benadiano No Ma guarda che ha buttato una punizione questo E state di cabotteo Mannaggia a teo Ma non sei buono a tirare punizione Ancora che insisti Guarda Amsic si gioca Dell'avversario Mamma mia Oh Amsic Benadiano Cazzo sta palla Mamma mia Guardalo che fa la mitraglia Dai Ma poi ha detto Benadiano Che cazzo sta palla Che ha segnato Cioè incredibile Con le mesi Guarda sopra Oddio 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 No Ancic No 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 E' lui Il bello dell'attacco Oddio 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 E' vero lui c'ha piqué Porco ti ho toccato attenti Niente calci d'angola Voi quando mi avete detto Che l'avete creata la squadra? Eh Allora C'è un piccolo diciamo Aneddoto su questa squadra Cato Messi Ah sto bastardo Uh E' una merda Messi E' L'aneddoto di questa squadra E' che gliel'ho passata io Cioè Questa squadra Ah Non tutta però dai Non tutta Che lì l'ho comprato io I dieci undicesimi Della squadra Gliel'ho passata io Perché ho abbastanza fortuna Con i pacchetti E con la compravina Eh Chi pensi che l'ha trovato Messi Cioè Eh Infatti Che culo E con Gio Michael Mamma mia Michael Guarda come entra Mamma mia Oh Vabbè Qua però Hai peccato d'egoismo Perché se la dai al centro Segnavi Ok No Passa a me Metà tempo Con Carlo Ci sta tutto l'intervallo Comunque dai Ce la portiamo a casa Beppe Sì ce la portiamo a casa Siamo 9 tiri per voi 6 tiri per me Eh sì Però voi avete fatto 7 tiri in bordo Si passa a Xenic adesso Sì Con il 62 di possesso Palla Ora Il joystick ce l'ho io Vole Vai Partiamo subito Coglione Messi Dimmi che ci stanno i comandi di FIFA No Cristo Uccidi Scusa un attimo Devo cambiare i comandi Che questo gioca i comandi di PES Non si sa perché Tranquillo Ma io c'ho un amico Che mi gioca con i pulsantini Questi qui Direzionari Ma che cazzo fanno a giocare Mamma mia Cioè Davvero Si è dritta a zero proprio Vai io Veramente Cioè Messi E anche PES È un gran bello attaccante Ancora la valla per Messi Messi Oh Oddio Grande Mascherano Ti sto amando Si difende bene ragazzo Eh sì È bravo È bravo Oh Sì però Non fate queste stronzate Per favore Hamsik Aiuto Aiuto Sopra No 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 Hamsik Magiera Ma che ha fatto Ma che cosa fai Ma che ha fatto lui Ma perché Ma perché tu ti rado a dire a destra Vabbè È incredibile Ma raga Comunque ho pensato a tirarlo a destra Ecco perché non Che intanto Ho trovato io Ancora subito La palla per Hamsik Hamsik Carica a sinistro È una sedia È una sedia Curta di merda Assegio Krananas Non mi ha Sto portiere del cazzo No, grandissimo Cazzo fai Tranquilli, tranquilli Non vi preoccupate Qui l'attenzione si palpa Non c'è pericolo Si taglia con un grecino Non c'è pericolo La palla per Tevez Tevez È del 2-0 Torna a casa Messi Mamma mia, mamma mia che esultanze di Tevez Non ha attaccato, non ha fatto un tiro decente E Piché si dispera Perché non potrà giocare col suo compagno di merende Eh, questo prova il baia Prova il bug Ah, questi bug Ah, che bug Guardalo, guardalo come se ne va È ispirato La palla per Tevez Tevez, Tevez No, no, oh Dio Ma no, ma che tiro Ma che ha fatto Messi I believe I can fly Voli Ma sta a far tutto da solo Si è buttato a terra E cazzo Ancora La vede? Lungo per Tevez Eh, no Troppo, troppo, troppo lungo Ancora No, Tevez Se l'è Ma che sta sempre in mezzo Mamma mia Vanno a vincere E Messi Resta con noi Dai È stato veramente un piacere sfidarti Tenermi Messi Io ve lo dico Voglio la rivincere Prima o poi Si, si C'è stato qualcosa I miei giocatori Si sono un po' Incazzati tra di loro In attacco non mi faceva niente Erano ansiosi Del vedere Messi in squadra Ma Niente Ormai niente Eh, vabbè E diciamo che Con questa partita Abbiamo terminato È stato un piacere Qui Ospitare il nostro Gigi Sul nostro canale Ho detto nostro Troppe volte Roba del mente Vuol dire qualcosa Te? Eh, si Che si è spento Io L'unica cosa che ti voglio dire È che voglio stare in Vincita Perché sto giocatore Lo voglio a tutti i costi Quindi La situazione È questa La rivincita ci sarà Probabilmente sul suo canale Quindi mi raccomando Vi lasceremo il link in descrizione E passate sul suo canale Che è veramente bravo Vi lascerò anche il link Dei suoi vari Polka Podcast Come Cassi Tutto me se non mi ricordo E niente Dai Granans è tutto Da Gigi è tutto Bella raga Bella Ciao Bomber Ciao 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 Ciao